Buongiorno a tutti, sono Annika e bentornati al mio canale. Oggi non vi parlerò di un libro, ma di un social network. Ho deciso di fare questo video perché principalmente volevo parlare poi di due ebook che ho letto su questo social network, però non tutti magari lo conosceranno, o magari l'avranno già sentito però non sanno fino in fondo che cos'è. E quindi mi sono detta perché non fare anche un video in cui spiego meglio un po' che cos'è. Il social network in questione, come avrete letto dal titolo e di cui avete visto anche il logo a inizio video, è Wattpad. Wattpad è stato creato nel 2006 da Alan Lau e Ivan Yuan. Ed è un social network appunto, da cui si può accedere tramite il sito internet oppure tramite applicazione per smartphone. È un'applicazione gratuita, quindi che si può scaricare e a cui si può accedere gratuitamente. Ma in che cosa consiste? Qui possiamo trovare delle storie create dagli utenti che utilizzano questo social network, oppure in cui possiamo leggere la versione ebook di alcuni libri cartacei. Però non troviamo tutti i libri cartacei che vogliamo, ce ne sono solo alcuni. Principalmente serve agli utenti per pubblicare le loro storie. Allora, noi possiamo trovare... c'è una sezione dedicata alla ricerca delle storie. In alto possiamo trovare la barra di ricerche in cui possiamo cercare un autore, cioè un utente in particolare, o il titolo di un libro, piuttosto che di un autore, o cose così. Possiamo fare una ricerca specifica. Oppure possiamo fare delle ricerche in base al genere, che ci piace. Una volta che noi abbiamo scaricato delle storie, sarà proprio anche poi Hotpad a consigliarci delle storie in base a quelle che abbiamo letto e che ci piacciono. Poi c'è una sezione in cui c'è la nostra biblioteca, con tutte le storie che stiamo leggendo e che possiamo rileggere. Poi c'è una parte in cui c'è il nostro profilo, quindi possiamo vedere tutti i commenti che abbiamo fatto in altri profili, e cose così. Poi c'è il nostro elenco di lettura, ovvero tutte le storie che noi abbiamo archiviato. Possiamo anche averle eliminate dalla biblioteca, però se le abbiamo salvate lì comunque rimangono e le possiamo trovare subito. Questo è vero proprio i social network, perché oltre a poterci, a permetterci di pubblicare le nostre storie, gli altri utenti potranno anche commentare i capitoli, votarli, e mandarci dei messaggi privati e farci sapere cosa pensano della nostra storia. Una volta che noi mettiamo la storia, se ci clicchiamo sopra, ci appare tipo una presentazione sotto la copertina, e poi ci sarà un pulsantino con scritto leggi e accanto c'è un quadratino con un più per poterli inserire nella biblioteca o nell'elenco dell'archivo lettura o così via. E se noi invece clicchiamo leggi possiamo anche poi non salvarla nella biblioteca, insomma. Oltre all'elenco all'archivo di lettura possiamo anche creare noi degli archivi, diciamo, con un determinato nome, quindi archivi con il nome personalizzato, che sono in base al genere o all'autore e così via. E allora, questo social network permette di far diventare della nostra passione anche un lavoro. Infatti, proprio da questo social network sono partiti poi dei fenomeni letterari che sono poi stati tradotti anche poi in una versione cartacea del libro. Infatti, ci sono poi delle case editrici che scovano poi le storie di più successo e possono anche poi proporre dei contratti agli autori dei libri per vederli poi stampati nella versione cartacea. Mi viene in mente After il libro, insomma, che è nato proprio come e-book, come storia su Wattpad, e poi da lì ho avuto un successo enorme. Infatti, poi sono stati pubblicati libri che credo siano cinque. All'inizio ho detto che è un'applicazione gratuita e questo perché il proprietario di Wattpad riceve dei finanziamenti da alcune importanti compagnie che investono economicamente non solo in Wattpad, ma anche in altre società tipo Twitter. e poi ci sono altre che vi scriverò alcune informazioni anche nell'info box. Ci si può collegare Wattpad appunto tramite il sito o tramite la app. È un tipo di social network che ha preso molto piede soprattutto in Stati Uniti e Gran Bretagna e anche in paesi in cui l'accesso ad internet avviene soprattutto tramite smartphone. in paesi come Tailandia e Filippine. E pensate che nelle Filippine Pune è nata una serie tv basata su questo social network ed è trasmessa dalla televisione nazionale. A livello mondiale sono circa 40 milioni di utenti iscritti a Wattpad e hanno pubblicato circa più di 80 milioni di storie in oltre 50 lingue si stima che gli utenti passano in oltre 9 milioni di minuti al mese sulla piattaforma. L'85% del traffico proviene da teenager e l'85% sono teenager No, allora L'85% del traffico proviene da mobile, quindi da smartphone L'80% degli iscritti sono teenager e l'85% sono femmine Inoltre sono state iscritte oltre 20 milioni di parole da iOS e Android Ma il pubblico non è formato soltanto da teenager ma anche da adulti o comunque ragazzi più grandi e anche da qualche over 70 In Italia ci sono oltre milioni di utenti che hanno prodotto oltre 60.000 storie e che passano le mail su social network sui 150 milioni di minuti appunto su Wattpad Questo è tutto se avete qualche domanda scrivete pure nei commenti se volete consigliarmi qualche storia da leggere i consigli sono ben accetti e volevo appunto recensire alcune di queste storie che mi sono piaciute particolarmente Allora, a me piace molto come social network e grazie a Wattpad ho scoperto alcune storie che mi piacciono moltissimo però c'è una piccola pecca c'è una piccola pecca o non riesce anche a vedere il capitolo quindi diciamo queste sono le uniche pecche che ci sono non sempre va detto però che comunque a volte ci sono questo è tutto se avete qualche domanda scrivete pure nei commenti se volete consigliarmi qualche storia da leggere i consigli sono ben accetti e volevo appunto recensire alcune di queste storie che mi sono piaciute particolarmente e questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima un bacione ciao mi stavo dimenticando di dirvi che nell'info box vi lascio anche il link del mio canale ok, niente dicevo vi lascio anche il link del mio canale nell'info box così se volete potete passare a dare un'occhiata perché ho anche pubblicato una storia che è più una raccolta di curiosità sulla serie televisiva di Game of Thrones o il Trono di Spade e tra l'altro adesso da aprile inizia anche la stessa stagione e non vedo l'ora di sapere se Jon Snow è risorto oppure no questo è tutto noi ci vediamo alla prossima ciao grazie a tutti grazie a tutti